La Regione ringrazia il gruppo FS e Trenitalia per l'attivazione di alcuni servizi aggiuntivi richiesti dall'amministrazione per afforzare i collegamenti durante il periodo estivo. Si tratta dell'attivazione di nuove fermate a Miramare e di nuovi treni attivati da Trenitalia sempre su richiesta della Regione nell'ambito del contratto di servizio con l'obiettivo di sostenere la maggior domanda derivante dalle navi da crociera che approvano a Trieste. Vengono confermati i servizi attivati per la prima volta lo scorso anno e risultati efficaci per l'utenza turistica quali ad esempio le ulteriori soste al Trieste Airport a Ronchi dei Legionari per favorire l'intermodalità. Il cambio orario estivo 2024 conferma i potenziamenti d'offerta del fine settimana sulla relazione Trieste-Udine-Carnia-Tarvisio a favore del ciclo turismo già attivati nell'estate del 2023. E' confermato anche il potenziamento estivo del trasporto biciclette sulla direttrice costiera grazie alla presenza di una carrozza bici da 64 posti su 6 coppie di treni della direttrice Trieste-Portogruaro-Venezia. Disponibile tutti i giorni nel periodo estivo il servizio. Prosegue anche il trasporto ferroviario trasfrontaliero Micotra realizzato dalla società Udine-Cividale tra Italia e Austria lungo la direttrice Udine-Tarvisio-Fillac correlato alla ciclovia Alpe-Adria realizzato in collaborazione con la OBB ed esteso a Trieste nei fini settimana via Palmanova-Cervignano. L'estate 2024 i collegamenti treno più bus e treno più nave attivati per il 2023 per le località balneari di Lignano, Grado e Muggia. Per i turisti diretti alle spiagge si potrà utilizzare Lignano-Link, il servizio treno più bus in collaborazione con la Riva Udine con 46 corse al giorno. Con il Muggia-Link, il servizio treno più motonave in collaborazione con TPL e FWG sarà possibile arrivare via mare a Muggia con un imbarco al molo Bersaglieri di Trieste distante pochi minuti a piedi dalla stazione centrale. 31 corse motonave al giorno durante l'estate.